Che significa sentirsi napoletano, essere napoletano? Sapere che ci sarà sempre qualcuno che avrà solidarietà per te. Questa città è la fabbrica di tutto quello che io ho amato nei miei anni di giornalismo. Io ho 60 anni di mestiere, per cui ho visto passare tante cose, ho visto dire tante cose. Io ho nostalgia dell'epoca in cui mi alzavo, tiravo sulla gornetta del telefono e raccontavo qualcosa che ad esempio Massimo avrebbe banalizzato trasformandolo in una capacità di dire come si può far ridere la gente. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e comunicatore che con i suoi reportage, documentari e interviste ha fatto la storia del giornalismo italiano ed internazionale. Così recita la delibera che conferisce a Gianni Minà la cittadinanza onoraria di Napoli, con una cerimonia solenne nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Un uomo ed un professionista che per sua stessa missione può considerarsi da sempre almeno per metà napoletano e non solo per aver incrociato nella sua lunga carriera diversi personaggi napoletani, con cui ha stretto anche una profonda amicizia, da Pino Daniele a Massimo Troisi e Diego Armando Maradona. Lavoro da 30 anni su certi argomenti, per esempio con Maradona ho fatto un grosso lavoro di conoscenza perché Maradona aveva molti difetti, ha molti difetti, però è una persona leale. Se tu giornalista le fai uscire fuori invece l'immagine che una persona di mezzo, una persona senza spina dorsale, non hai fatto un buon lavoro di giornalismo. E' riuscita a mantenere anche nel secondo anno uno standard accettabile di sicurezza, di prestigio. Considerando che questo dura da due mandati, bene, è solo da fare i complimenti al sindaco. Un innamorato di Napoli, un grandissimo uomo, giornalista, scrittore, regista, uomo libero, di grande sensibilità culturale, coraggioso, un napoletano. Persona libera, autonoma, assetato di giustizia, un po' anarchico, un po' sregolatezza e rigore morale. Una bellissima persona che apprezzavo fin da ragazzo e sono orgoglioso oggi di potergli dare la cittadinanza onoraria di Napoli.